Nell'ultima settimana di maggio verranno erogate due mensilità e nuclei in attesa del contributo di autonoma sistemazione e casse che a Teramo riguardano ancora un migliaio di famiglie. 1.100.000 euro è la cifra arrivata nelle casse del Comune di Teramo, importo su cui il Comune dovrà aggiungere circa 500.000 euro, che verranno presi dai residui e che permetterà di anticipare la somma non ancora arrivata nelle casse comunali. Una situazione su cui il Comune di Teramo è al lavoro alacremente per mettere in pagamento il prima possibile le somme messe a disposizione, anche se le mensilità non potranno essere tre, come era nella volontà dell'amministrazione. Sì, sono arrivati da parte del Cor 1.100.000 euro, insieme a altri residui che il Comune già ha dal 2016 riusciremo a pagare due mensilità, nello specifico quelle di febbraio e di marzo. Stiamo predisponendo già tutta la documentazione. Ovviamente noi avevamo richiesto al Cor 3 mensilità, quindi di pagare fino ad aprile. Il Cor ovviamente non ha le somme a disposizione e quindi c'è elargito soltanto la possibilità, con le somme che ci ha dato, di pagare tecnicamente un mese. Poi con i residui che già ho detto riusciamo a pagare due mesi, quindi febbraio e marzo. Pagamenti che verranno fatti a fine di maggio? Sì, indicativamente a fine maggio. Noi già stiamo ripredisponendo tutta la documentazione, perché tecnicamente da un punto di vista amministrativo contabile noi avevamo preparato tutto per pagare tre mensilità, adesso sono due e quindi stiamo rifacendo tutto il lavoro per i mille nuclei familiari. I prossimi fondi quando arriveranno? I prossimi fondi, attualmente il Cor ci ha detto che a disposizione aveva solo quei fondi che ci ha girato e quindi per gli altri fondi sinceramente attualmente non so dare notizie.